ciao a tutti benvenuti nel mio canale sono di nuovo qui con un meraviglioso video di kenyaman e oj gurel nomi famosi dell'industria dell'intrattenimento turca kenyaman e oj gurel hanno sorpreso ancora una volta i loro fan poche stelle brillano tanto quanto kenyaman nella comunità dell'intrattenimento ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo con il suo innegabile carisma talento straordinario e fascino mozzafiato tuttavia non è solo la sua personalità sullo schermo ad attirare l'attenzione ma anche i suoi amori nella vita reale in particolare la sua relazione con il collega attore oj gurel in una sincera intervista con i giornalisti del nostro canale kenyaman racconta i suoi sentimenti per oj gurel e cosa sarebbe potuto succedere se la loro relazione fosse andata in una direzione diversa c'era sincerità nella tua cara voce che ha iniziato a dire vorrei non aver sposato oj gurel sarei incredibilmente triste perché lo amo così tanto le sue parole risuonano profondamente ed emotivamente rivelando la profondità del suo amore per la sua ex co protagonista la relazione tra kenyaman e oj gurel è stata oggetto di fascino per i fan molte persone volevano che la loro storia d'amore sullo schermo si trasformasse in amore nella vita reale lavorare con oj gurel è stata un'esperienza davvero indimenticabile abbiamo condiviso tanti momenti speciali insieme sia in amore che fuori dall'amore non è solo un attore di talento ma anche una persona straordinaria e apprezzo il tempo che abbiamo trascorso insieme la loro collaborazione sullo schermo potrebbe essere finita con la serie in cui hanno recitato ma il loro legame è più forte che mai nonostante le difficoltà e le pressioni delle loro personalità pubbliche kenyaman e oj gurel hanno sempre avuto un profondo rispetto e ammirazione l'uno per l'altro di cosa si trattava grazie a tutti per la visione ci vediamo nei nuovi video ciao